Nessuno di noi è mai stato nel Bronx, prima d'ora. E che vuol dire? Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città. Nessuno avrà il mio tosse? No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. Nove di noi e nessuno armato. Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Che sei di lui, Sairos? Magia. Possiede un sacco di magia. Sono stato chiaro? Sì! Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok? Sta tranquillo che il cranio non me lo spagga. Credo che abbiamo ucciso Sairos. Ma di che stai parlando? Non è vero. Sono convinti che l'abbiamo fatto. Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro. Attenti a voi, Goli. Non sarà facile tornare a con. Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri. Li voglio! Portateveli vivi, se è possibile. Li voglio vivi! Dutemi una cosa. Perché stabbiamo? Ve l'ho detto, ma ci battiamo con i ghiacchi. Grazie a tutti i ghiacchi.